Grazie Presidente, ringrazio anche il Direttore Orfeo per il suo intervento, visto che qui vorrei proprio discutere sul modo di trattare le informazioni da parte del Tg1, credo che ormai il Direttore ci conosca bene e non ci piace affatto l'impronta politica nelle notizie, specie nel servizio pubblico. Parto da una nostra recente interrogazione in vigilanza RAI, che è ancora in corso, sulle dichiarazioni assolutamente imboccate al deputato Alessandro Di Battista circa l'assassino di James Foley e la guerra contro l'Isis, riportate lo scorso 20 agosto nel Tg1 delle ore 20. L'episodio riguarda affermazioni che il mezzo busto matano ha attribuito arbitrariamente al deputato. Questo stesso atteggiamento in veritiero è stato tenuto anche nel servizio della giornalista Gaudo Mazzola su un videomessaggio di Beppe Grillo circa la crisi economica e i drammi attuali del Paese. Di 11 minuti la Mazzola riprende soltanto 15 secondi, riportando esclusivamente le parole rivolte al Presidente del Consiglio Renzi, oscurando il resto e sintetizzando in modo capzioso 11 minuti di videomessaggio con diti di insulti al Premier. Quindi l'atteggiamento del suo giornale, a nostro avviso, è stato scorretto e di parte. Il mese scorso abbiamo presentato un'interrogazione su come il Tg1 ha raccontato anche il DDL sulla riforma costituzionale, non è stato dato spazio alle soluzioni alternative date dalle opposizioni nel corso della discussione delle votazioni della riforma e infine non sono mai state illustrate nemmeno le controproposte e molto superficialmente è stata riassunta la riforma dello stesso Governo Renzi. Sono state ricordate solo dichiarazioni tipiche della dialettica politica e poi vorrei sapere a questo punto se secondo lei, Direttore, in questo modo come è possibile che i cittadini si rendano conto di quello che accade davvero dentro le aule e le commissioni parlamentari se raccontate così come ho detto un poco fa citando soltanto alcuni degli esempi, come è anche possibile che quantomeno i 9 milioni di cittadini che rappresenta il Movimento 5 Stelle riescano a capire cosa il Movimento 5 Stelle fa dentro quelle aule. Inoltre, per citarne un'altra, i fatti di Gaza è stato dato meno spazio di quanto la strage avrebbe drammaticamente meritato e su questo anche c'è stata interrogazione e risposta e quindi questi sono alcuni dei motivi per cui abbiamo chiesto le sue dimissioni. Il Movimento 5 Stelle vuole un'informazione che sia degna di questo nome, ormai lo ripetiamo da oltre un anno e mezzo, che sia obiettiva e che sia completa. Noi crediamo che con lei in particolare questo non ci sia stato e visti i presupposti non crediamo che ci sarà in futuro. Poi vorrei anche una riflessione da lei rispetto ai dati dell'osservatore di Pavia di luglio e agosto in cui il Tg1 è proprio quello che cede di più rispetto ad altri nei tempi di visibilità concessi al Governo. Grazie. Io prima ho detto nel discorso introduttivo che sono molto contento e orgoglioso per il lavoro e per i risultati che ha ottenuto la redazione. Io sono orgoglioso soprattutto per il lavoro che ha fatto la redazione. I risultati, come ha visto, non sono buoni, sono ottimi in un trend, peraltro, dove tutti gli altri canali perdono o comunque soffrono. Sono contento soprattutto del lavoro che la redazione ha fatto in questo anno e mezzo di mia direzione. E questo lo voglio dire soprattutto rispondendo ai parlamentari di 5 Stelle. intanto ringrazio l'onorevole Ciampolino perché mi ha chiesto soltanto di osservare alcune regole che mi sono sempre dato, a differenza della sua collega Nesci che mi ha chiesto diciamo le dimissioni. Quindi ho trovato più garbato l'invito da parte sua, più moderato o quantomeno. Spero che non cambi idea, adesso gliel'ho detto, però insomma. Scusate, questa è una battuta fino a un certo punto. Voglio dire al Movimento 5 Stelle, rappresentante del Movimento 5 Stelle, che ho la coscienza a posto. Io, come tutti i colleghi che si sono occupati di politica e si sono occupati del Movimento 5 Stelle. Tutti gli indicatori, se servono, anche quello a cui faceva riferimento lei di agosto, dimostra che il Movimento 5 Stelle è trattato allo stesso modo, allo stesso tempo, degli altri principali partiti italiani, cioè il Partito Democratico e Forza Italia. Su tutti gli argomenti più importanti, tutti, anche quello a cui faceva riferimento lei della riforma costituzionale, è sempre stato ascoltato il parere di un rappresentante, la maggior parte delle volte indicato da voi stessi. Quindi diciamo, si presuppone competente di quell'argomento che esprimesse la vostra posizione, contrario o favorevole a questo o quel provvedimento. Quindi, da questo punto di vista, ripeto, non c'è stata mai capiziosità da parte nostra. Se per lei pretende che Grillo fa un intervento sul blog di 11 minuti e io debba mettere 11 minuti di Grillo, diciamo, questa è una pretesa, questo è assolutamente no. Quindi metteremo quei secondi, diciamo, all'interno di un servizio che noi riteniamo opportuni e che rientri in un equilibrio tra le diverse forze. Se poi non vi piacciono gli insulti a Renzi, basterebbe che Grillo non mettesse gli insulti a Renzi sul suo blog. Nel momento in cui lui mette anche gli insulti a Renzi, il giornalista è libero di scegliere quale parte ritiene giornalisticamente più importante. Se a Grillo non fa piacere, come ha detto lei, che vadano in onda gli insulti a Renzi, basterebbe non metterli sul blog. Il problema sarebbe risolto a monte e quindi non ricadrebbe incolpevolmente sulle mie spalle. Così come, mi scusi, mi scusi, così come, ripeto, così come si completo perché avete posto una serie di interrogative, avete fatto una serie di riferimenti. Così come, diciamo, non è colpa mia se perfino l'ambasciatore di Bagdad a Roma ha ritenuto provocatoriamente invitare Di Battista a fare il mediatore con la Gia d'Islamica o l'ex governatore della Banca centrale, Jean-Claude Trichet, ha invitato il dottor Casaleggio a chiudere in maniera un po' frettolosa il suo intervento a Cernobbio perché il tempo era stato, il tempo a disposizione era stato ampiamente superato, sa che era a Cernobbio, non come qui che è un posto democratico, a Cernobbio c'è un semaforo che si accende a un certo punto e lì si deve bloccare anche se si chiama Casaleggio. Quindi mi pare che da questo punto di vista, ripeto, abbiamo la coscienza a posto, crediamo di aver fatto quello che dovevamo fare, di aver rappresentato in ogni occasione quello che è il pensiero e la posizione del Movimento 5 Stelle. Non ricordo tutte le volte che abbiamo invitato lo stesso leader del Movimento Beppe Grillo a fare delle interviste, peraltro una l'abbiamo fatta, fu la prima intervista di Beppe Grillo televisiva, l'abbiamo fatta noi alla vigilia delle elezioni politiche del 2013. Naturalmente Beppe Grillo, come tutti i politici, non so se si offenderà, ma anche lui una volta ha chiamato partito il suo movimento, quindi non si offenderà più. Si lamenta che Renzi parla troppo, Berlusconi parla troppo, Tizio e Carlo Semproiano parlano troppo, facciamo un'intervista, 5 domande, ogni risposta era un quarto d'ora, quindi l'intervista durò un'ora correttamente, trasmettemmo una sintesi del telegiornale delle 20 e poi pubblicammo l'integrale sul sito internet del Tg1, proprio perché tutto quello che è il pensito di Grillo fosse correttamente a disposizione di chi era interessato. Per quanto riguarda invece l'eccedenza di Renzi, a cui facevo riferire la scandalosa eccedenza di Renzi sul Tg1 nel mese di agosto, io non la trovo né scandalosa né particolarmente eccedente, nel senso che, come ne sa, i lavori parlamentari sono finiti l'8 agosto con la prima approvazione della riforma della Costituzione del Senato, dopodiché i lavori parlamentari sono terminati mentre l'attività di governo è proseguito. Il Presidente del Consiglio nel mese di agosto ha fatto una serie di viaggi in giro per l'Italia, soprattutto nel sud dell'Italia, ha fatto una riunione del Consiglio dei Ministri il 24 del mese mi pare, peraltro con un provvedimento impegnativo, non dico né buono né cattivo perché non fa parte delle mie competenze, ma impegnativo come lo sblocca Italia, con una conferenza stampa e quindi è chiaro di che cosa ci dobbiamo occupare? Noi che come servizio pubblico ci dobbiamo occupare di quella che è l'attività politico-istituzionale, ci siamo occupati di quello che faceva il Presidente del Consiglio e quindi mi pare che anche questa eccedenza che lei riscontra nei numeri non la definirei scandalosa ma rientra in quello che è la nostra regolare attività di servizio pubblico, cioè quella di raccontare l'attività politico-istituzionale e qui rientra quella del Presidente del Consiglio e del governo che il Presidente del Consiglio guida.